Ehi tifosi del Cagliari, come state? Oggi vi porto una notizia bomba che farà battere forte il cuore di tutti noi appassionati della nostra squadra. Durante l'assemblea della Lega Serie A, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato dei rumor che circolavano negli ultimi giorni riguardo alle dimissioni del nostro allenatore Claudio Ranieri. E le sue parole vi renderanno ancora più entusiasti. Giulini ha affermato di aver avuto lunghe conversazioni con l'allenatore e di essere pienamente convinto che possiamo ottenere grandi risultati con lui. Ha sottolineato l'esperienza e i valori di Ranieri, evidenziando come l'allenatore incarna completamente i principi che il club desidera trasmettere. E questo va ben oltre i risultati sportivi, riguarda la rappresentatività e l'identità del nostro Cagliari. Il presidente ha enfatizzato che, nonostante gli inevitabili alti e bassi che abbiamo affrontato, ha fiducia nel lavoro di Ranieri. E la rivelazione più sorprendente è arrivata subito dopo. Giulini ha condiviso che questa sarà l'ultima esperienza di Ranieri tra i club. Una notizia che ci lascia con un misto di emozioni, vero? Ma ora voglio sentire la vostra opinione. Tifosi del Cagliari, come vi sentite riguardo al futuro di Claudio Ranieri al comando della nostra squadra? Pensate che possiamo ottenere grandi successi con lui? Lasciate i vostri commenti qui sotto, e non dimenticatevi di rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul nostro Cagliari. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche e sosteniamo insieme la nostra squadra del cuore. Forza Cagliari!